Si è radunato ieri pomeriggio il rinnovato Sporting Club. Tante le novità nell'organico della società goitese, ai nastri di partenza della prossima promozione. Agli addii di Guidi, Ecuban, Beretta e Bovi hanno fatto da contraltare gli arrivi di Borghi, Grigoli, Zaglio, Saleri, Galante e Gollini. Nuovo è anche l'allenatore, Luca Vaccari, che ha sostituito Alessandro Novellini. La squadra è rinnovata, come sapete tutti. Sarà una bella impresa fare bene come hanno fatto quelli che c'erano prima di noi. giocatori, mister e staff, ma secondo me abbiamo allestito un gruppo all'altezza. Quindi bisognerà vedere il campo che parla, secondo me possiamo far bene. Cerchiamo di amalgamare bene il gruppo e vedere come sarà. Però sarà il campo sempre che decide dopo. Noi possiamo fare quello che vogliamo finché non ci confrontiamo con le altre realtà. L'obiettivo è far bene, non dico niente. L'obiettivo è far bene, ripeto, far bene come hanno fatto gli altri avendo cambiato così tanto non metto le mani avanti, non sarà semplice, ma noi siamo sulla strada buona. Venerdì la squadra sarà già in campo a Goito per la prima amichevole. Arriva la governolese di eccellenza. Il 28 agosto test col Castiglione e il primo settembre sfida il Campagnola.